Dopo settimane di strategie e sotterfugi, ce l'hanno fatta. Mezza casa coalizzata contro Soleil Sorge, tutto pronto per la sua eliminazione. Ce l'hanno fatta ed è tutto pronto per farla fuori stasera. Soleil Sorge è nel mirino dei suoi coinquilini, ma i fan da casa vedono tutto. Scopriamo cosa sta succedendo nelle ultime ore. L'influencer è dentro la casa del grande fratello Vip da quasi quattro mesi. Dopo la prima fase in cui era carica ed entusiasta, anche grazie ad Alex Belli, ora si è spenta un po'. Se ne sono accorti un po' tutti anche dentro la casa e vicino a lei sono rimasti davvero in pochi. Dall'altra parte della barricata c'è Miriana spalleggiata da Sophie contro di lei. La Trevisan ha fatto davvero di tutto per screditare la Sorge in tutti questi mesi e non ha mai mollato il colpo. I centinaia di video in rete mostrano Miriana intollerante con sole. Fare un taglia e cuce al veleno quotidiano con tutti per portarli dalla sua parte e nominarla. Nelle ultime ore il piano della Trevisan ha preso forma concretamente. Le chiacchiere alle spalle di Soleil sono state crudeli e nessuno cerca né un confronto né uno scontro con l'influencer. La strategia per stasera è quella di screditarla in diretta. Miriana porta dalla sua parte Gian Maria che improvvisamente diventa astioso senza motivo con Soleil Sorge. Essi aggiungono Alessandro e Sophie, Jessica e Federica. Tutti insieme a fare comunella e a sparlare alle spalle di Soleil. Ce la farà Soleil a salvarsi? La storia del grande fratello, Vip, insegna che il tutti contro uno non hanno mai funzionato. Tuttavia Soleil Sorge non è più la ragazza spensierata di prima e forse anche per stanchezza. Potrebbe decidere di non volersi nemmeno difendere. I fan da casa continuano a sostenerla e sperano che stasera in diretta la Sorge tiri fuori le unghie. Grazie. 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 Grazie.